Ah, ogni tanto anche una bella partita, sto rivalutando la pausa nazionale, no scherzo, mai nella vita, però un bel 3-2 proprio all'ultimo secondo al minuto Ramos, c'è stato il 3-2 della Spagna ma la partita praticamente non è mai stata veramente in discussione. E questo perché l'Inghilterra è stata di un cinismo veramente indescrivibile, ha fatto 4 tiri, 4 in porta e 3 sono stati gol, quindi veramente poco da dire sulla fase offensiva dell'Inghilterra, efficace è la parola giusta. E tutto è successo nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inghilterra non si è quasi mai affacciata nella metà campo della Spagna, figuriamoci nell'area di rigore, perché anche giustamente ha puntato a difendere il largo vantaggio facendo passare i minuti, riducendo così via via sempre di più le chance della Spagna di arrivare quantomeno a pareggiare. Infatti così è stato un lunghissimo recupero concesso dall'arbitro, anche con Gruosense, il quale probabilmente la partita sarebbe finita 3-1, diciamo che negli ultimissimi secondi probabilmente l'Inghilterra ha anche un po' mollato la concentrazione, quindi voglio dire non è proprio da tenere in grande considerazione questo secondo gol della Spagna per capire la differenza tra le due squadre che si è vista in campo. Che poi qui è bello parlare di questa partita devo dire perché è veramente una partita dove troviamo due espressioni contrapposte di intendere il calcio, cioè stiamo parlando di due modi di giocare completamente diversi per cui sicuramente tra di voi c'è chi arrabbia perché pensava, pensa che meritasse di vincere la Spagna e che l'Inghilterra sia stata orrenda da vedere e chi invece pensa che meglio così l'Inghilterra è stata più efficace e quindi pazienza che la Spagna abbia fatto possesso palla, abbia tirato di più in porta perché alla fine conta chi fa gol e chi è più preciso. E magari chi la pensa così, e forse un pochino ci sono anch'io tra questi ma devo ancora decidere, sottolinea la bravura della fase difensiva. Io ho sempre sostenuto che nel calcio non si può prescindere dalla fase difensiva, è inutile che parliamo della bravura degli attaccanti, molto spesso la bravura di certi attaccanti dipende anche dagli errori difensivi. E infatti sicuramente i gol dell'Inghilterra nascono da errori difensivi, mi è piaciuto stuzzicare un po' su Twitter live durante la partita Sergio Ramos che viene decantato da tutti come il più grande difensore del calcio attuale ed è anche colpa sua almeno uno se non un e mezzo di questi tre gol che ha segnato l'Inghilterra nel primo tempo con tra l'altro Sterling che non aveva mai segnato e ne ha fatti due, l'Inghilterra che non perdeva in casa in gara ufficiale come ha ripetuto due o tre volte il telecronista di Mediaset da 15 anni, quindi qualcosa di incredibile è successo stasera, si è sempre felici, diciamo la verità, siamo sempre felici da italiani se la Spagna inciampa, lo dobbiamo ammettere e io sono felice stasera per questo, quindi anche per questo credo che preferisco l'Inghilterra, preferisco che abbia vinto l'Inghilterra e sto dalla parte dell'Inghilterra per il gioco espresso, cioè a me sta bene se fai 3-0 nel primo tempo con quella tattica lì, con quel bari centro basso e ripartenze fulmine con bravura tecnica, con velocità, approfittando delle distrazioni della difesa, ci sta che poi ti metti tu in difesa, ti abbassi tanto, ti chiudi perché stai 3-0, non stai 1-0 contro una squadra che ha sempre avuto un grandissimo tasso tecnico, quindi sarebbe stato sbagliato se l'Inghilterra si fosse chiusa su un vantaggio ridotto, invece ha continuato ad attaccare, pur alla sua maniera, perché comunque non ha mai invaso l'area di rigore, forse neanche da tre quarti e però è riuscita a fare quello che doveva fare, cioè gol. Poi l'Inghilterra ovviamente era una nazionale che deve anche crescere, controllava un attimo ha una età media di 24 anni e mezzo contro la Spagna che ha 26 e 7, circa 27 anni, quindi la Spagna è più o meno nella media delle grandi squadre, tengo conto anche di molte squadre di club, la Juventus per esempio ha 28 anni di età media grossomodo, mentre l'Inghilterra è sicuramente una nazionale giovane, una squadra giovane che tra l'altro vanta un solo giocatore che gioca fuori in azione, c'è solo un giocatore che è l'ala sinistra del Borussia Dortmund, che qualcuno di voi sarà più bravo a ricordare, adesso l'ho letto un attimo ma non me lo ricordo, ha 18 anni, è l'unico che non gioca in Inghilterra gli altri inglesi giocano tutti in Inghilterra, la Spagna ne ha 10 su 23 che giocano fuori quindi anche questo secondo me è una peculiarità particolare, molto curiosa dell'Inghilterra che ci racconta che nazionale è, forse anche per questo al mondiale tanti parlavano della sorpresa Inghilterra della rivelazione Inghilterra, dell'anno dell'Inghilterra, che poi non si è verificato non è neanche la Nations League dell'Inghilterra, perché è seconda, clamorosamente dopo questa vittoria dopo aver spugnato la Spagna e Siviglia con questa vittoria, ripeto, per me meritata non è prima, è prima la Spagna a 6 punti, però è un punteggio dopato dalla roboante vittoria della Spagna sulla Croazia che sta nello stesso girone, tra l'altro un girone da paura cioè Croazia finalista mondiale anche se è evidentemente in calo di risultati perché ha perso una partita e ne ha pareggiata un'altra, sembra un po' l'Italia, solo che l'Italia non è andata in semifinale mondiale e poi appunto Inghilterra e Spagna, insomma un girone veramente fantastico e chissà a questo punto chi vincerà, comunque manca un'altra partita sia a Inghilterra che alla Spagna, la Spagna è comunque prima a 6 punti quindi ha in mano il suo destino, però chissà che questa sconfitta non possa portare a delle ripercussioni anche psicologiche per il proseguo, vediamo. Certo è che ci siamo goduti secondo me una grande serata, abbiamo visto il talento di alcuni giocatori dell'Inghilterra che solitamente ammiriamo in Premier League, curioso l'assist di Rashford per Sterling da Manchester United e da Manchester City sono cose che capitano per il resto la Spagna sicuramente, sicuramente al di là di tutto poteva fare meglio perché è vero che l'Inghilterra si è abbassato tanto però passare tutto quel tempo, diciamo quei 45-50 minuti almeno a cercare di fare un gol e poi il secondo e non c'è stato poi il tempo per cercare di fare il terzo significa che da un punto di vista anche tecnico, da un punto di vista tattico non è che ci hai messo il massimo che potessi fare quindi colpe anche sulla Spagna che poteva fare meglio questo è il mio giudizio sinceramente ditemi la vostra nei commenti, votate il sondaggio che è un po' filosofico ovviamente perché sono due filosofie di calcio se preferite Spagna o Inghilterra, chi ha meritato di più e ci vediamo presto con nuovi video anche non legati alla Juventus però la pausa nazionale sta per finire, dai che ce la facciamo sempre Forza Juve Forza Juve